salve a tutti lo so già che questo video già l'ho presentato una volta come fare un video olografico ma un utente su internet ha tanto insistito alexander 1 che lo rifacisse con la nuova versione di premiere allora ho scaricato da internet la versione demo del premiere cc quindi utilizzando questa versione vi presenterò come è possibile fare il video olografico ma in aggiunta per renderlo diverso dalla versione precedente vi faccio vedere come è possibile fare qualcosa di meglio allora prendiamo innanzitutto il nostro programma che ho scaricato in versione demo allora nuovo progetto gli diamo il titolo come video olografico ok gli crea una cartella scriviamo olografico ok e mettiamo tutto in questa cartella qui in quello che noi abbiamo creato per il progetto ecco fatto adesso rispetto alla versione precedente vedete che qui nella timeline non c'è niente allora bisogna fare file nuovo e dagli sequenza gli diamo il formato che ci serve in questo il file che ci serve per creare praticamente il nostro video olografico adesso dove l'ho messo non mi ricordo più dove è stato ah ecco qua apri 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 questo poi lo rimetterò di nuovo in descrizione ok allunghiamolo un pochettino facciare ridimensione a dimensione fotogramma si è preso ok adesso importiamo il file che ci serve che quello lì dove andremo a lavorarci super per l'ologramma mettiamo qui mettiamo sopra no non è questo era un altro mi importa eccolo qui ridimensione a dimensione fotogramma ok se vedete qui ha uno sfondo verde ci serve la trasparenza in questo modo renderemo il nostro video olografico più ad effetto allora per togliere il colore verde andiamo su effetti digitiamo ultra teniamo il primo due con il sinistro e trasciniamolo e mettiamolo sopra il video cerchiamo la pippetta sto qua andiamo su colore verde clicchiamo il sinistro e vedete che è scomparso ma scompare soltanto la parte verde se andiamo avanti vedrete che c'è tutto il resto tutto quello che comparirà come nero in pratica sul nostro proiettore diventerà trasparente perché il nero non può essere proiettato solo il bianco viene proiettato a di fuori del nero quindi andiamo di nuovo dietro play fermiamoci su un'immagine qualsiasi qualsiasi quindi fermiamoci su un'immagine ora adesso lo sfondo allunghiamolo fino alla fine del video poi dopo comunque dobbiamo cancellarlo perché non ci serve più allora andiamo sul video abbiamo detto e ridimensioniamolo scaliamolo proviamo prima con un 40% poi spostiamoci con le posizioni andiamo sopra 40% non va bene perché le punte queste e queste devono rientrare all'interno della X quindi scendiamo non va bene ancora scendiamo a 20% poi per vedere meglio ingrandiamo lo schermo così possiamo effettuare una regolazione migliore effetti andrebbe sullo start un altro lavoro ecco fatto troviato la scala che è i 20 a questo punto anzi possiamo rimanere così come sta tasto destro su i viti che abbiamo già che abbiamo proporzionato copia selezioniamo deselezioniamola questa qui e selezioniamola numero 3 e facciamo incolla in questo caso eliminiamo l'audio che non ci serve per eliminare la traccia audio che non ci serve tasto destro sul video scollega selezioniamo sull'audio e cancelliamo ok a questo punto facciamo aggiunge un'altra traccia deselezioniamo e selezioniamo la traccia nuova CTRL V e incolliamo la traccia nuova e incolliamo la traccia nuova alla fine ne dobbiamo avere 4,1,2,3,3,3 allora aggiungo un'altra traccia andiamo sul V5 e facciamo di nuovo CTRL V e creiamo un'altra 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 duplicata del nostro video ecco fatto adesso abbiamo tutti i quattro viti della stessa dimensione adesso non ci resta altro che metterci sul primo no il secondo allora cosa dobbiamo fare ruotarlo in modo orario di 90 gradi eccolo qua se vedete le punte corrispondono anche con questo qui centrale però a noi ci interessa ecco ci posizioniamo qui in modo che corrisponda con questo qua 470 ecco qui e adesso scendiamo e uno ripetiamo con quest'altro ruotiamo 90 90 180 180 deve andata a finire questo come sta a base soltanto farlo scendere a posto adesso ci manca l'ultimo abbiamo i 180 90 un 90 un 90 prendiamo la coccolatrice 270 quindi mettiamoci qui ruotazione 270 ok adatta ecco qua ecco qua adesso andiamo indietro e vediamo avete visto? ok ok non non dimenticare di fare i like di fare la registrazione di condividere il video e niente vi auguro un buon lavoro purtroppo non posso esportarlo perchè è una versione demo e non posso fare niente altro e volevo metterlo magari sotto il mio proiettore ma il proiettore l'ho regalato e non ce l'ho più quindi buona giornata a tutti alle 10